Siamo qui nuovamente nell'appartamento di Via Montanara per l'acquisizione di altri elementi utili ai fini dell'attività investigativa. Anche l'ASL era presente per la rimozione della carcassa dell'animale su cui verrà effettuato un accertamento veterinario sempre su disposizione dell'autorità giudiziaria. Nuovo sopralluogo questo pomeriggio nell'appartamento di Via Montanara dove lo scorso sabato era stata ritrovata senza vita la 92enne morta ormai da due mesi. Un accertamento che arriva ad alcune ore di distanza dal ritrovamento della figlia dell'anziana, una sessantenne della quale si erano perse le tracce. A rintracciarla in un albergo a Rimini la squadra mobile della questura di Arezzo dopo giorni di ricerche in tutta Italia. È stata assunta a sommare informazioni, non ha reso chiaramente esaustivi secondo noi in ordine al decesso della madre e quindi adesso la sua posizione al vaglio della magistratura. Al momento comunque il fascicolo è ancora a carico di ignoti, quindi non ci sono indagati, probabilmente nelle prossime ore potrebbero esserci degli sviluppi, quindi l'iscrizione di qualcuno nel registro degli indagati, ma al momento il fascicolo è ancora a carico di ignoti per il reato di abbandono di incapace. La sapeva della morte della madre? Su questo non posso riferire perché è in corso un'attività di indagine. La sessantenne abitava con la madre nell'appartamento di Via Montanara e aveva l'accompagnamento. Su la vostra ente di ingrandimento anche i conti bancari? Sono in corso tutta una serie di attività di indagine su cui, ripeto, non posso riferire, però sì. Perché percepiva la pensione ma anche l'accompagnamento questa donna? Sono in corso accertamenti, quindi ci stiamo rivolgendo agli enti interessati per chiarire meglio anche la situazione patrimoniale. I soccorsi lo scorso 31 agosto avevano ritrovato l'anziana sdraiata sul letto con la camicia da notte e in mano il telecomando della TV, a vegliarla fino all'ultimo il gatto stroncato probabilmente dalla fame. Una vicenda su cui restano molti interrogativi che almeno in parte potranno essere chiariti dall'autopsia disposta dalla PM Giulia Maggiore. Sul corpo della donna comunque non erano stati riscontrati segni evidenti di violenza.